Da oggi è in vigore il nuovo DPCM emanato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Per il contenimento della diffusione del Covid-19, il nuovo provvedimento resterà in vigore fino al 30 settembre e conferma le misure adottate finora, distanziamento di un metro, igiene delle mani e uso delle mascherine. Queste sono obbligatorie in luoghi chiusi, accessibili al pubblico e all'aperto, nelle occasioni nelle quali non si riescono a garantire le distanze. Su questo punto viene introdotto quanto stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute di metà agosto, obbligo di indossare le mascherine dalle 18 alle 6 del mattino, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici dove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale. Discoteche e sale da ballo, quindi, resteranno chiuse, così come negli stadi dove le partite continueranno a svolgersi senza pubblico. In vista della riapertura delle scuole, sono state introdotte nuove regole per il trasporto locale. La capienza di bus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all'80% dei posti, se saranno garantiti efficaci sistemi di reazione e ricambio dell'aria. E' inoltre previsto che gli scuola bus potranno viaggiare pieni se la permanenza a bordo degli studenti non supererà i 15 minuti. Sui rientri dall'estero, il DPCM recepisce integralmente le prescrizioni del Ministro della Salute. Dunque, obbligatorio il tampone per chi arriva dai paresi a rischio, Croazia, Grecia, Malta e Spagna, mentre c'è l'obbligo di quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria. 16 listati inseriti nella blacklist e da quali c'è divieto di ingresso Prevista inoltre una deroga per il ricongiungimento delle coppie internazionali. Si potrà tornare in Italia per raggiungere la persona con cui si ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente.